Il castello di Torre a Decima sorge ai piedi del Monte di Croce, in prossimità di Molino del Piano. Risalente al XII-XIII secolo, conserva tutt'oggi l'antica torre e tracce della fortificazione medievale. La leggenda narra che dopo la fallimentare congiura dei Pazzi, decisa dalla famiglia nel 1478, il castello divenne il loro rifugio. La vicina cappella di origine medievale è infatti dedicata a Santa Maria Maddalena dei Pazzi, che vi soggiornò nel XVI secolo. Il castello è oggi residenza privata, visitabile solo dall'esterno.